La più grande interpretazione di Lee Woolman nel capolavoro di Mauro Bolognini. La vicenda di una donna che ha commosso il mondo. È un posto molto tranquillo. Da queste parti il KGB non ci viene. Usa il coltello. Tu sei una scienziata. Non abbiamo ancora avuto la possibilità di appurare se tu sei in possesso di informazioni segrete. Fare la spia. Prendi questi soldi. Vida! Perché? Perché l'ha fatto? Vida! Ci deve essere uno sbaglio. In questo campo ci sono solo uomini. Se per caso vedo ancora la tua faccia in giro, non ti dimostrerò la generosità che ti ho dimostrato fino ad oggi. Sono venuti fin qui da Londra per vederti. Come hanno fatto, Tovani? Mi mandano degli amici. Tutte le guerre finiranno un giorno, Julie. Non so quando, ma ho imparato qui all'inferno che i sogni sono una forza indomabile. Grazie. Grazie a tutti.